Spesso e volentieri sento o leggo frasi quali «Io faccio autosvezzamento per cui do tutto a mio figlio» oppure «Ah, se lo avessi saputo avrei fatto autosvezzamento così non avrei perso tempo con gli schemini». Frasi come queste non hanno alcun senso poiché, come vedremo, partono da presupposti sbagliati per cui raggiungono una conclusione fallace. Ciao e benvenuti, sono Andrea di Autosvezzamento.it e in questo video voglio chiarire una volta per tutte che le «regole» sull'introduzione degli alimenti, inizio svezzamento, etc. valgono per tutti nello stesso modo, indipendentemente dal percorso scelto per lo svezzamento. Regole. Ma quali regole vi starete chiedendo? Prima però, che ve lo dico a fare, iscrivetevi al canale e se non l'avete già fatto cliccate sulla campanella così da assicurarvi di ricevere tutti gli aggiornamenti. Fatto? Sicuri? Ok, cominciamo. La confusione che molti fanno è di identificare un certo percorso con una serie di regole che valgono solo per quel percorso specifico e non per altri e che i percorsi siano grossomodo equivalenti e interscambiabili. Nel nostro caso abbiamo «Io faccio svezzamento tradizionale, quindi seguo la tabella del pediatra. Io invece faccio autosvezzamento, allora non ho bisogno di eseguire la tabella» e abbiamo due possibilità apparentemente equivalenti tra loro. Questo modo di pensare però non ha e non può avere alcun senso. Non possono coesistere due situazioni dove una è l'opposto dell'altra, ovvero un caso dove c'è un insieme di regole da rispettare e un altro dove le stesse regole possono tranquillamente essere ignorate. Il tutto per raggiungere lo stesso scopo. Se la tabella di introduzione degli alimenti ha un senso, allora ce lo deve avere per tutti, indipendentemente dal percorso individuale intrapreso. Se invece la stessa tabella di introduzione non ha basi, allora non ce l'ha per nessuno, di nuovo indipendentemente dal percorso prescelto. Per dire, una cura antibiotica quella è. Non è che l'utilità dell'antibiotico possa essere più o meno valida a secondo che uno sia, che so, destro o mancino. Lo stesso vale per l'avvicinamento dei bambini all'alimentazione complementare. Le regole, se ci sono, devono essere le stesse per tutti. Dell'argomento della validità degli schemi ne ho già parlato e ho scritto fiumi di parole su questa cosa, per cui non vi voglio dilungare. Voglio solo reiterare che da nessuna parte di serio si troverà mai niente di così specifico e che somiglia alla classica ricettina che alcuni pediatri continuano a distribuire. Né esistono elenchi essenziali di alimenti da mangiare prima, o dopo, o di quantità, o di quello che volete. Uno può anche scegliere di eseguire una tabella se lo fa stare più tranquillo, ma non ne consegue che questa abbia niente dietro. Per dire, esistono molti schemi di svezzamento e se questi schemi avessero un minimo di fondamento sarebbero più uniformi tra loro. Tra l'altro non dimentichiamoci che basta andare all'estero e si scopriranno schemi completamente diversi o anche un'assenza totale di schema. Vi ricordate il video che ho fatto sul baby food britannico? Se non l'avete visto ve lo consiglio. Vi dico subito che vi aprirà un mondo e lo trovate qui in alto o in basso nella descrizione. In altre parole, è assodato che non c'è davvero bisogno di eseguire un determinato calentario di introduzione degli alimenti o di tempistiche di svezzamento, indipendentemente dal fatto che il bambino si svezzi da solo o meno. Ora vorrei invitarvi a riflettere sul modo con cui comunichiamo. Facciamo un esempio. Paola dice:"Sto seguendo questo schema ma mi trovo proprio male!" Francesca risponde:"Allora fai autosvezzamento, così puoi dare tutto". In molti, come l'ipotetica Francesca, trasmettono l'idea che l'autosvezzamento sia un qualche metodo magico che ti consenta di svincolarti dalle tabelle di introduzione degli alimenti. Faccio autosvezzamento, quindi lì non seguo uno schema. Invece la domanda da porsi è se il calendario che Paola sta seguendo abbia un senso oppure no. Siccome sappiamo che la tabella di Paola quasi sicuramente non ha fondamenta serie, le possiamo dire di stare tranquilla e di rilassarsi, ma il tutto indipendentemente dall'autosvezzamento o da altre considerazioni accessorie. Frasi più sensate invece sono queste:"Non do tutto al mio bambino perché faccio autosvezzamento, ma lascio che il bimbo si autosvezzi perché so che posso dargli tutto". Oppure:"Non è che seguo l'autosvezzamento perché così non perdo tempo con gli schemini, ma siccome gli schemini sono una perdita di tempo, allora lascio che il bimbo si autosvezzi". La differenza è chiaramente sostanziale in quanto quello che cambia è il rapporto causa-effetto. Siccome sappiamo che tabelle e calendari non servono, siccome sappiamo che il latte è un alimento completo, siccome sappiamo che tutti i bambini passeranno ad un'alimentazione solida e queste sono cose vere sempre per tutti, allora posso lasciare mio figlio libero di scegliere quando iniziare a mangiare e quanto cibo solido mangiare. Magari qualcun altro ha paura che il figlio non mangi abbastanza o che non abbandonerà mai la tetta o altro, allora adotterà un regime più rigido, ma questa è una scelta sua, del genitore e niente altro. In questo senso il pediatra che offre al genitore l'alternativa di uno svezzamento tradizionale o dell'autosvezzamento dice quella che è a tutti gli effetti un'assurdità. Come può dire a un genitore di seguire una tabella, uno schema o un calendario o di non seguirli affatto? O una cosa serve o non serve, e siccome sappiamo che non serve. Esempi di raccomandazioni che valgono sempre e per tutti possono essere evitare il miele fino ai 12 mesi, il latte vaccino in sostituzione del materno formulato non è adatto prima dei 12 mesi circa, fino a verso i 3 anni è bene prediligere il latte e latticini interi, evitare uova, carne e pesce crudi e così via. Non fanno parte di questo elenco cose quali introdurre l'alimento X a tot mesi, eliminare la poppata del pranzo a Y mesi, cominciare lo svezzamento rent un tot e così via. Insomma le raccomandazioni, o regole come qualcuno preferisce chiamarle, si dividono in serie e farlocche. Le serie valgono per tutti, sempre. Le farlocche sembrano valere solo per alcuni e non si è ben capito perché. Lo so che molti saranno dicendo a gran voce che per centomila motivi diversi si sentono più tranquilli seguendo uno schema, il che va benissimo, ma allora il pediatra può tranquillamente dire loro di googlarlo e di trovarsi quello che più ti aggrada, tanto come fai a dire se uno schema sia migliore di un altro. Se il pediatra comincia a distribuire foglietti con ricettine varie e quanti ne ho visti, questi assumono un valore che non hanno e che vanno ben al di là dell'effetto che possono avere sul genitore singolo. È così che si perpetuano i miti. Ma allora cosa vuol dire lasciare che il bambino si autosvezzi? Un buon punto di partenza è rispondere alle seguenti domande. Chi decide quando il bambino deve passare ai soliti? Sappiamo che l'autosvezamento è un processo orizzontale, non verticale, per cui le popate vengono piano a piano sostituite dal cibo solido, non vengono eliminate una per volta, più o meno all'improvviso e arbitrariamente. Quindi chi decide è il bambino. Chi decide che cosa e quanto deve mangiare il bambino? Dato che non c'è uno schema in introduzione degli alimenti e siccome, soprattutto all'inizio, gli assaggi sono minuscoli, è il bambino a scegliere cosa mangiare dalla tavola condivisa con i genitori, ecco la richiesta, anche se si trovassero a mangiare cibo indiano. Dopotutto in India, come fanno? Anche per quanto riguarda la quantità, sapendo che il cibo solido è solo un di più, non c'è proprio motivo di pensarci. In conclusione, il bambino non può mangiare tutto perché si svezza da solo, ma si può lasciare che si svezzi da solo perché può mangiare tutto, cominciando quando vuole e mangiando nelle quantità che vuole. L'autosvezamento si identifica con l'atteggiamento che i genitori hanno nei confronti del bambino e delle sue competenze, nel fatto che il genitore riconosce che il bambino è competente, così come lo era quando veniva allattato esclusivamente, e che il processo di avvicinamento all'alimentazione solida è un processo naturale che richiede giusto un po' di buonsenso. Il menù, la presenza o meno degli schemi, eseguire o meno una tabella non c'entrano nulla. E a voi cosa hanno consigliato? Vi è stata proposta l'alternativa tra autosvezzamento e svezzamento tradizionale? Raccontatecelo nei commenti. Ciao e alla prossima!